Un omicidio pianificato nel dettaglio e questo è il quadro che sta immergendo dalle indagini sulla morte di Sara Burattin. Oggi l'autopsia ancora sospese alle ricerche del furgone nel Bacchiglione. E' attesa bovolenta la piena nel Bacchiglione che sta transitando nel Padovano da stanotte. La situazione è sotto controllo. Notte sugli argini per la protezione civile. Scuole chiusa a Veggiano, bovolenta e rovoloma. La situazione è in netto miglioramento. Riaperte tutte le strade. Piamo nel Montegrotto. La morte di Ezoarzo Zattini, 18enne, deceduto in ospedale per un colpo e ricevuto durante un allenamento di boxe alla procura di Padova indagato. Tre persone. Tre condanne sono state combinate per la morte di Denis Rampazzo. Il ragazzo appena 17enne aveva perso il controllo della sua moto finendo nella buca scavata in un cantiere stradale. Blitz della Guardia di Finanza che a piave di sacco ha sequestrato 2.000 confezioni e tre quintali di alimenti non tracciati. Scoperto un ristorante abusivo. Si celebra il 29 febbraio la giornata mondiale delle malattie metaboliche rare. L'appello dell'associazione AISM è fondamentale la diagnosi precoce. Buongiorno e benvenuti al Tg di Telenordeste. Apriamo questa edizione con le novità che ci arrivano da bovolenta per quanto riguarda il femminicidio. Omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla relazione affettiva. Alberto Pittarello è indagato con queste accuse per la morte della sua compagna Sara Burattin finché il suo corpo non viene ritrovato per gli investigatori. Il 39enne è vivo ed è stato iscritto nel registro degli indagati. Ormai non ci sono più dubbi che l'uomo tecnico caldaista legato a Sara da quasi 20 anni abbia pianificato il delitto. La settimana scorsa ha chiesto un giorno di ferie per martedì 27 febbraio, ben sapendo che quel giorno Sara non doveva andare al lavoro perché era il suo turno di riposo. La scusa era quella di dover consegnare uno scooter alla figlia 15enne che in quel momento era a scuola. Forse in questo modo che l'ha tirata in giardino portandola verso il ricovero attrezzi che non dà sulla strada dove l'ha colpita alle spalle con il suo coltello da escursionista. Secondo un primo esame le coltellate mortali sarebbero state due, una alla spalla e una tra il collo e la nuca, poi avrebbe inferto con almeno altri 20 fendenti. Oggi verrà affidato l'incarico e sarà eseguita l'autopsia. La mamma di Sara Burattina ha ritrovato il corpo della 41enne verso le 11 quando è uscita per cercarla. L'aggressione dovrebbe essere avvenuta verso le 10 e 30. Le telecamere della zona vicino a Via L'Italia a Bovolenta hanno ripreso il passaggio del furgone di Pittarello. 15 giorni fa Sara era tornata a vivere a casa con la mamma e la figlia. Il suo rapporto con Alberto Pittarello era in crisi, come può succedere spesso nelle coppie, ma nulla lasciava presagire al drammatico epilogo. La stessa mamma di Sara ai carabinieri avrebbe detto di non averli mai visti litigare. Ora la donna insieme alla nipote si è trasferita per qualche giorno dall'altra figlia a Terrassa Padovana. Qui ci sarebbe stato anche un incontro con i genitori di Alberto Pittarello, due famiglie distrutte dal dolore che si devono fare forza per sostenere una ragazza di 15 anni travolta da una tragedia immensa. Ma ci sono altre novità che ci arrivano da Bovolenta anche sulle ricerche. Ce ne parla Valentina Visnettini, collegamento. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Bovolenta. Ricerche sospese anche oggi. Dovevano riprendere questa mattina le ricerche di Alberto Pittarello qui lungo il Bacchiglione, ma come vedete dalle immagini di Christian Roque Allende sta passando in queste ore la piena. Il livello del fiume è cresciuto ulteriormente in queste ore, rendendo così impossibile una nuova immersione dei vigili del fuoco che ieri si erano fermati ad un metro di profondità, mentre il furgone si trova a 5 metri. La presenza era stata rilevata dagli appositi macchinari. Possiamo ipotizzare che visti i livelli del fiume che sono ulteriormente cresciuti, il furgone sia ulteriormente più in basso. Troppo rischioso dunque per i sommozzatori immergersi con la piena che sta passando, la visibilità praticamente nulla dell'acqua melmosa del Bacchiglione. Dunque ricerche sospese anche oggi, riprenderanno ad emergenza maltempo terminata. Qui a Bovolenta un comune sotto shock per questo delitto che ha stravolto due famiglie. Quella di Sara Burattin, la vittima di 41 anni, e la famiglia di Alberto Pittarello, il suo compagno che è il principale indiziato del delitto. La sindaca del comune che in queste ore sta affrontando l'emergenza maltempo, ha sentito la famiglia Pittarello che si dice sconvolta. Anche loro sapevano di questa crisi ma non sembrava una crisi irreparabile e di certo nulla faceva presagire a questa tragedia. Domani invece la sindaca incontrerà la famiglia, la mamma di Sara Burattin e la figlia per portare tutta la solidarietà del comune. Siamo pronti ad aiutarla, ha detto in qualsiasi modo. La sindaca Anna Pittarello che ha detto che vuole anche indire una giornata di lutto cittadino nel giorno in cui verranno stabiliti i funerali della 41enne. Quindi per quanto riguarda le ricerche si attendono le prossime ore che saranno cruciali per l'evoluzione del maltempo per capire quando di preciso riprenderanno perché ancora non c'è certezza, non c'è la sicurezza che il corpo di Alberto Pittarello si trovi all'interno del furgone che si è inabissato proprio in questo punto del Bacchiglione. Da Bovolenta è tutto, la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentini per queste ultime novità su questa vicenda. Restiamo però a parlare del Bacchiglione perché la piena ha creato molta preoccupazione. Finché la piena a livello della Marzana non fa paura. Scorre l'onda di piena sul Bacchiglione, qui siamo a Ponte San Nicolò, il mare sta ricevendo, le condizioni sono ottimali. Qui hanno ormai tirato un sospiro di sollievo, l'onda di piena è passata questa notte ma è andato tutto nel migliore dei modi possibili. La notte è passata tranquilla per i miei concittadini, per i ragazzi della protezione civile, sottoscritto e qualcun altro, un po' meno tranquilla perché eravamo qui a monitorare per quello che si poteva fare, il nostro amato e qualche volta odiato fiume. Però è passata tranquilla e adesso anche si sta maggiormente tranquillizzando la situazione. Quando siete in queste situazioni la memoria va a quella tragica notte del 2010? Sì, è stato proprio tragico quel momento là che ci ha provato dal punto di vista sia del lavoro ma anche emotivamente perché è stata molto dura sfollare le persone di notte. Stano te c'era qualcuno che veniva a vedere com'era? Sì, noi abbiamo visto spesso arrivare persone che davano un'occhiata, puntavano i fari delle auto sul fiume per vedere il livello e poi se ne tornavano, giusto Graziano che ha visto anche alle 3 di notte. Sì, alle 3 di notte il monitoraggio è costante durante la notte fino a mattino, diverse persone venivano sull'Asia e chiedono informazioni ma è tutto a posto, dormite tranquilli, stiamo controllando tutto, speriamo che non succeda come il 2010 che ha avuto un brutto ricordo per noi in questa zona. Ci sono più margini di sicurezza per i cittadini anche in caso di portate così importanti del Bacchiglione? Sì, ci sono più margini di sicurezza perché comunque qualche lavoro di consolidamento è stato fatto e poi anche in particolare sono state realizzate le vasche di laminazione nel Vicentino. Noi continuiamo a chiedere che anche l'idrovia, pseudo idrovia diventi uno scolo scolmatore. Mi sento di portare un segno, un abbraccio, un qualcosa di solidarietà a tutti quei territori che ad oggi sono stati così investiti da questa alluvione e da questa piena che a Ponte San Nicolò, fortuna nostra, è passata indenne e invece negli altri luoghi sta e ha provocato disagi e non pochi. Vedere le scene dei vostri telegiornali sono impressionanti. Sentiamo anche la voce del vicesidaco di Padova, Michalizzi, sulla piena del Bacchiglione. La piena è transitata per Padova, qui siamo nella zona della Paltana che è il punto per noi più esposto perché abbiamo delle abitazioni e degli impianti sportivi di proprietà del comune proprio in area golenale, quindi quelle zone che sono più esposte quando il fiume si alza. Quindi noi abbiamo concentrato qui le nostre attenzioni, il passaggio della piena è avvenuto intorno alle 5 della mattina, noi eravamo già qui dalle 4 e abbiamo assistito al transito della piena che non ha provocato nessun disagio e non ha interessato abitazioni. Devo dire che ci siamo andati molto vicini perché l'acqua era davvero molto alta. Noi stiamo continuando comunque a tenere i tavoli di coordinamento e emergenza aperti con la prefettura, col genio civile e con l'ARPAV, quindi se dal punto di vista idraulico la situazione possiamo dire che qui è passata e dobbiamo guardare il meteo. ARPAV ci dice che nei prossimi giorni la situazione è stazionaria, quindi abbiamo il tempo anche per recuperare e far defluire l'acqua. Tra sabato e domenica invece dovrebbe tornare il maltempo e con fenomeni anche di una certa entità, quindi dobbiamo rimanere pronti e quindi per noi l'emergenza non finisce, rimaniamo in assetto di allerta anche perché i fiumi sono ingrossati, i terreni sono imbibiti, quindi abbiamo le difese diciamo un po' spuntate. Quindi avete sentito, la situazione sta migliorando ma non è ancora tornata alla normalità. Facciamo il punto. Un timido sole si affaccia sulla giornata con i territori che tirano un sospiro di sollievo dopo una giornata e una notte passate a vigliare gli argini e i livelli dei corsi d'acqua. Per prudenza scuole chiusa a Rovolon e anche a Veggiano, dove resta il divieto di transito sul ponte sul Bacchiglione a Trambacche. A questo punto dietro di me il Tesina entra nel Bacchiglione, il Tesina attraversa tutto il centro abitato di Veggiano, non sono state evacuate persone e per sicurezza questa mattina abbiamo solamente chiuso le scuole e ieri pomeriggio questa strada. Strade riaperte ad Abano Terme, il livello del Vigenzone cala a Battaglia Terme, dove si attende il passaggio della piena del Bacchiglione a Bovolenta, migliora la situazione anche a Montegrotto. Per il momento i livelli sono in costante abbassamento e non rileviamo alcuna criticità. Via dei Colli è stata riaperta, in ogni caso noi manteniamo la barriera in sabbia a tutela della zona Vallona qualora la situazione dovesse cambiare in peggio. Gli occhi restano comunque puntati sul cielo, un nuovo peggioramento è previsto per la giornata di domani e fino a domenica per i gruppi di protezione civile e sarà un fine settimana di veglia. È stato sicuramente fondamentale il ruolo di bacini di laminazione e su questi bisogna continuare a investire molti ringraziamenti per il consorzio di bonifica e il genio civile. Voglio ringraziare davvero tutta la mia squadra, la protezione civile e tutti i cittadini come adesso per pulire la strada che in queste 48 ore mi sono stati vicini e ci hanno dato una mano. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della vicenda che ha visto la morte di un diciottenne dopo un allenamento di box e ci sono tre indagati. Ad un anno di distanza dalla morte del diciottenne Edoardo Zattin di S, stroncato da un malore dopo un allenamento di box, la procura ha indagato per omicidio colposo tre persone. Si tratta dei due titolari della palestra di Monselice e dell'allenatore di box del ragazzo. I tre sono stati iscritti nel registro degli indagati e sono stati sequestrati i loro cellulari e computer. Edoardo Zattin era morto il 24 febbraio del 2023, due giorni dopo aver accusato il malore. L'autopsia sul corpo del diciottenne ha mostrato una frattura cranica provocata da un trauma violento alla testa, compatibile con un pugno che ha portato poi ad un'emoragia fatale. Edoardo si era fermato durante l'allenamento con un altro atleta per soffiarsi il naso e poi si è accasciato. I testimoni e l'allenatore hanno sempre detto che non c'erano stati colpi e pugni, ma l'esito dell'autopsia ha smentito i loro racconti. Sono tre le condanne per un incidente stradale costato la vita a un giovane. Nel giugno del 2017, a soli 17 anni, Dennis Rampazzo di Cervarese Santa Croce era morto finendo con la sua moto in una buca profonda scavata a seguito di un cantiere stradale per l'allargamento del Ponte Rosso sul Bacchiglione a Veggiano. Dopo quasi sette anni e un lungo processo, la sentenza di primo grado ha condannato tre persone l'accusa di cooperazione in omicidio stradale con l'attenuante del concorso di colpa da parte della vittima. Le condanne sono state emesse nei confronti degli amministratori delegati e direttori tecnici del cantiere dove si è verificata la tragedia e del professionista incaricato della provincia di Padova, della progettazione strutturale e dei lavori di quel tratto di strada provinciale. La condanna di un anno per tutti e tra gli imputati a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena in sede civile invece verrà quantificato il risarcimento alla famiglia di Dennis Rampazzo. Il ragazzo era stato trovato morto all'alba del 16 giugno del 2017. I genitori non vedendolo rientrare entro mezzanotte avevano iniziato a cercarlo e avevano alertato le forze dell'ordine. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella buca del cantiere. Il ragazzo stava tornando a casa dopo una serata con gli amici e aveva scelto quella strada per accorciare il tragitto ma non si era accorto del cantiere stradale che risultava aperto e con le transene non adeguatamente segnalate. Per la pagina della cronaca sono oltre 2.000 le confezioni e 350 kg di prodotti alimentari non tracciati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova e dal Servizio Igiene degli Alimenti dell'Ulse 6 e Uganea presso diversi operatori economici della provincia. Tra di essi carne suina, avicola e bovina, derivati del latte, prodotti vegetali, integratori alimentari per un valore commerciale di circa 20.000 euro, distribuiti con etichettatura errata o completamente assente. I controlli eseguiti dai militari della compagnia di Piove di Sacco hanno trovato molti prodotti che avevano sull'etichetta in lingua italiana ingredienti diversi da quelli indicati nella lingua originale. In un circolo sportivo è stato inoltre individuato un ristorante del tutto abusivo che aveva anche lavoratori in nero. Cambiamo argomento, passiamo alla pagina politica. Che cosa succede tra Fratelli d'Italia e Lega dopo il voto in Sardegna? Posso capire che i miei colleghi veneti Barbisani prima, primis, abbia poca compensa di quello che è accaduto in Sardegna e di come sia stato scelto Paolo Truzzo, che è una scelta nata dal territorio. Candidato condiviso con il territorio oppure la Lega alle prossime regionali potrebbe correre da sola. Agli avvertimenti nemmeno tanto velati del Carroccio Veneto dopo il post al vetriolo del vice segretario Riccardo Barbisan, Fratelli d'Italia non presta il fianco. La lettura per gli alleati chiamati in causa da Barbisan è un'altra. A qualcuno sfugge che la coalizione di centrodestra è ancora, mi pare, sette punti sopra la coalizione centrosinistra. Davanti a lui c'è il segretario mediatore Dimitri Coin. La Lega deve portare a casa le sue battaglie, chiosa, e per questo serve il voto di tutti. Diversa la sua lettura del caso Sardegna. Pensare che la responsabilità sia del candidato assolutamente no, anzi magari qualche riflessione si può fare rispetto alle scelte che sono state fatte sui candidati e alle tempistiche che sono state utilizzate. Ora serve imparare dalla sconfitta De Carlo a Ring detta la linea. Se si dice noi correremo da soli, noi andremo da soli, si pare che sia compresa poco la lezione. La lezione è che dobbiamo essere tutti uniti. Coin prende la palla ma chiarisce politiche e amministrative due partite differenti. Dove possiamo andiamo insieme, dove non è possibile non si va, però stiamo facendo delle riflessioni assolutamente alla pari e con l'obiettività di cercare di fornire i candidati migliori. Per le regionali però servirà trovare la sintesi. Pena il voto disgiunto della Lega che avrebbe consegnato la vittoria al centrosinistra in Sardegna. Nemmeno la partita del terzo mandato sembra chiusa. C'è tempo eventualmente per rivotare sul terzo mandato? Fra un anno? No, dobbiamo dedicarci ai problemi dei veneti e degli italiani. Io non parlerei di terzo mandato, ma io parlerei di libertà dei mandati, perché i cittadini hanno la maturità sufficiente per poter decidere a farsi governare a tutti i livelli. Voltiamo pagina, chiudiamo questa edizione con la giornata delle malattie metaboliche. Abbiamo lavorato moltissimo, più di dieci anni, per arrivare a una legge che attivasse in tutte le regioni, prima non era così, uno screening alla nascita. Inizialmente verteva su tre malattie solamente, di cui una metabolica, quindi ipotiroidismo congenito, fibrosicistica e fenilchetonuria. Grazie a questa legge il pannello ufficiale è stato ampliato attualmente ad oltre 60 malattie, comprensive sia di malattie metaboliche ma anche di malattie neuromuscolari, malattie lisossomiali. Un bambino, quando nasce, viene testato tra la seconda e la terza giornata di vita, viene fatto un piccolo prelievo dal tallone con pochissime gocce di sangue, poi il cartoncino viene inviato dal punto nascita al centro di screening, il quale lo processa immediatamente e subito si può avere un'informazione se il bambino può essere affetto o meno da una di queste patologie. Nei casi più gravi il bambino viene richiamato e inviato al centro di cura, preso in carico e nei casi meno gravi si rifà il cartoncino e poi arriva, piano piano, si arriva poi a una diagnosi. I bambini così diagnosticati vengono subito messi in terapia dietetica, che è fondamentale, togliere l'aminoacido che loro non riescono a sintetizzare e ovviamente terapia farmacologica. Siamo al 17esimo anno, la giornata mondiale delle malattie rare qui in Italia viene organizzata dalla Federazione Uniamo e noi come associazioni produciamo eventi, congressi, eccetera, proprio per sensibilizzare. Questa edizione finisce qui, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie.